salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questa nuova puntata di libri interviste oggi è venuta a trovarci sabrina pennacchio ciao sabrina ciao a tutti grazie un'emozione immensa essere qui infatti già si sente tranquilla tranquilla sabrina è una rubrica di libri è un programma di libri e quando si parla di libri si è sempre di proprio agio quindi almeno con me quando si parla di libri proprio quindi è come un poco come il burro e le alici quindi per usare una metafora gastronomica allora andiamo proprio allora andiamo proprio a braccetto perfetto d'accordo dai già mi sento un pochino più a mio agio adesso oggi come tu sai in effetti quasi in ogni puntata di libri interviste c'è una mascotte che ci guida che ci protegge ci fa un po da santo protettore e questa volta ho voluto scegliere una figura mitica del del cinema e della letteratura che il nostro caro amico è il nostro è felicissimi di avere grande potter con noi contanto di bacchetta quindi in effetti siamo anche sotto la protezione magica quindi di di harry potter quindi meglio di così ci minazza meglio di così credo che non si può meglio di così quindi non sia mai esce qualche mostro dalla storia almeno c'è lui che ci difende e beh certo qua abbiamo il triangolo delle bermude sto vortice quindi non promette benissimo appunto meglio stare tranquilli esatto esatto perfetto prima di cominciare prima di dare la parola a sabrina permettetemi di dire qualcosa su di lei e di presentarla in maniera più completa possibile sabrina pennaccio innanzitutto è una scrittrice napoletana e dopo essersi buttata nel mondo del lavoro della beauty care dedica tutto il suo tempo alla passione per la scrittura e la gestione di un blog letterario che trovate tranquillamente su internet se volete ve lo linko successivamente e nel 2018 si aggiudica il premio della critica letteraria con il suo romanzo d'esordio nel 2019 vissa quindi il successo pubblicando dark and light amore impossibile primo capitolo di una saga che comprende comprende tre tre romanzi e che supera 2000 copie vendute in soli sei mesi su amazon quindi nella classifica best seller di amazon nel 2020 sono uscite due pubblicazioni devil and lady è considerato il libro più bello del 2020 stato premiato per questo e una storia d'inverno che è una favola orientale e che di fatto ha avuto un grandissimo successo per l'originalità della storia per l'idea di creare quindi questa ambientazione asiatico orientali già orientaleggiante che di fatto è originale quindi per un'atrice italiana e nel 2021 pubblica un altro testo che è il seguito della trilogia fantasy dark and light e grazie alla casa editrice officina milena arriva in libreria con il romanzo deep blue che il romanzo che pubblica che è stato pubblicato quindi che quello là che presenteremo oggi infatti mostriamolo un'altra volta facciamolo vedere di nuovo esatto eccolo qui perché la copertina piccolino piccolino in arrivo la copertina già già intende da un'idea quindi in effetti siamo in tema marittimo che poi diremo perché e quindi a questo punto io direi di dare la parola a sabrina e chiediamo quindi a sabrina come è nata l'idea di scrivere questo romanzo allora diciamo che deep blue inizialmente è nato per l'idea di racchiudere più racconti di varie autrici per diciamo una una raccolta di libri il cui ricavato sarebbe andato tutto in beneficenza abbiamo fatto questa cosa un paio di anni fa e fortunatamente è andata bene abbiamo comunque raggiunto il nostro scopo dopodiché noi autori abbiamo deciso di di prendere comunque quella quell'iniziale idea dei racconti piccoli che abbiamo messo in questa in questa raccolta di di storie e ognuno poi ci ha fatto giustamente quello che che voleva io da quell'inizio da quella piccola idea che aveva proprio come sfondo la rinascita intesa comunque come rinascita di se stessi una rinascita comunque in vari ambiti ci ho creato così deep blue perché volevo comunque creare qualcosa che si parlasse comunque della di una vita comunque difficile della protagonista che man mano va a rinascere un po come una fenice dal suo dolore e al tempo stesso visto che io amo tantissimo scrivere fantasy ho pensato perché non metterci dentro uno sfondo un po fantasy visto che io sono anche quel tipo di autrice che non ama scrivere sempre le stesse cose quindi voglio comunque differenziare libro per libro anche perché voglio che si si capisca che quel libro è mio però non voglio che magari i lettori pensano vabbè è la solita storia che scrive sempre cose che non avevo ancora mai scritto era una storia appunto di animali marini di esseri marini e magari appunto detto perché non approfittare invece di fare le classiche storie della sirenetta bella innamorato o altro creare qualcosa che giri magari proprio sul mistero del triangolo delle bermude e quindi abbiamo ho pensato questa cosa poi ne abbiamo parlato con editori e tutto il resto fortunatamente è piaciuta l'idea ed eccolo qua il piccolino bello bello di mamma è piccolino però mamma lo ama tanto solitamente scrivo libri molto più prolissimi ecco quindi in effetti tra l'altro la produzione di sabrina è molto variegata quindi questo ovviamente poi lo diremo successivamente e lo linkerò quindi per chi volesse approfondire ulteriormente la storia letteraria di sabrina quindi di recuperare oltre oltre questo libro che presentiamo oggi anche gli altri volumi che lei ha scritto che di fatto da quello che ho potuto vedere sei un'attrice molto prolifica quindi usciranno altri libri a breve vero sì sì assolutamente sì sto scrivendo adesso l'ultimo della trilogia di dark and light che spero di far uscire presto però ecco essendo un tipo molto molto ansioso io devo sempre essere certa al cento per cento di quello che scrivo perché dico se non piace a me non può piacere agli altri quindi mi sto impegnando perché poverini i miei lettori non vedono l'ora di leggere il finale però se tutto va bene magari per l'estate uscirà e magari poi anche per l'inverno ne faccio già uscire un altro che quello è già pronto quello bisogna soltanto di leggerlo fortunatamente diciamo che le mie idee sono sono tantissime dico finché le ho io ne approfitto sempre per scrivere perché poi quando ti vengono le crisi dello scrittore è tremendo quindi io intanto scrivo metto da parte poi faccio uscire un po alla volta perché giustamente tutto insieme è meglio di no no ma certo certo assolutamente questo ovviamente apre alla seconda domanda che ti voglio fare e che di fatto un po quindi è stata già risposta però approfondiamo ulteriormente l'argomento tu prima hai parlato il triangolo delle bermude quindi volevo capire quale sono le ricerche che tu hai fatto come mai ti ha attirato questo argomento e come come mai quindi ci sono così tanti testi così tanti volumi che descrivono questa questo triangolo delle bermude che di fatto ancora oggi un mistero è perché non è stata ancora risolta la storia quindi il problema il triangolo perché è un problema anche ovviamente per le navi che ci passano quindi ancora oggi ovviamente questa immagine qui è una un'esagerazione ovviamente non è che ci sta un un mulinello non parliamo di scilla e carica ah vabbè certo certo mai dire mai quindi io non ci sono mai stato e poi ovviamente magari chi c'è stato mi può corregge io sono affascinata ma penso che non ci andrei mai l'ansia è così forte che non si sa che cosa succede che forse non ci andrei mai a prescindere diciamo che io sono sempre stata affascinata da da tutte queste cose un po sconosciute ecco come appunto dicevamo anche prima le cose che un po mettono ansia a me da una parte mi fanno paura da un'altra parte mi intrigano perché devo capire che perché certe cose ci sono forse mi sono appassionata tantissimo a questo argomento perché seguo un canale youtube dove appunto si parla di tutte queste cose misteriose e appunto vedi una una trasmissione che parlava proprio del triangolo e diceva cose così da una parte assurde e da un'altra parte possono sempre essere vere allora lì ho detto ma sì dai fammi informare un po di più fortunatamente santo google ci apre un po di tutto e quindi mi sono andata a informare un pochino appunto sul triangolo sulle creature che magari si si pensi ci siano sott'acqua o magari che potevano esserci millenni fa e adesso non ci sono più ho preso un misto di tutto me lo sono messo in testa e ho fatto una fusione alla super saian e ho creato così questa questa cosa certo certo questo ci fa capire di come in effetti lo sprint l'idea che ci fa nascere le storie a volte può nascere quindi pure per puro caso quindi la la gioia delle ricerche fatte per caso magari uno va diciamo su internet va a cercare una cosa alla fine non trovi quella cosa magari trovi un'altra cosa che ancora più interessante di quella che cercavi e viene fuori un capolavoro viene fuori un libro viene fuori una piccola opera d'arte questa è una cosa importante questa è la magia di internet del buon uso di internet sostanzialmente è vero il buon uso perché spesso non se ne fa un buon uso ma se se ne fa un buon uso vengono fuori cose strepitose quindi di fatto internet ha un po sostituito la biblioteca sostanzialmente che prima si andava in biblioteca e si cercavano quindi testi che ci potevano interessare sugli argomenti che ci potevano interessare io per esempio guarda un film che vedo spesso e che faccio vedere e page master page master è un film degli anni 90 sottovalutatissimo ma la la vedi la magia la magia della della lettura perché questo ragazzo apre i libri all'interno di ogni libro ci sta qualche storia si tuffa dentro e si va o nel mondo di dottor jack e le mister haiddo nel mondo del capitano a del capitano agabe di moby dick o nel mondo di 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 jack e il fagiolo magico un'altra storia particolarissima quindi è poco letta nonostante se ne sappia tantissimo si fanno film si fanno serie tv si fanno cartoni animati e questo ci fa capire in effetti della magia della lettura di come la lettura ci salva soprattutto in situazioni come questa perché noi siamo chiaramente in una situazione di emergenza sanitaria internazionale e siamo un po reclusi anche se non lo siamo ufficialmente ma è come se lo fossimo quindi però di fatto se tu ci pensi nel decameron di boccaccio è nato quindi da una pseudo quarantena che si fanno sti ragazzi e quindi là c'era la peste nera che forse era pure peggio del covid almeno perché poi là all'epoca non c'erano manco quindi c'era nessun tipo di di cura si moriva e basta almeno adesso ovviamente ci sono la scienza adesso è andata avanti è andata sicuramente avanti e alla luce di quanto detto io poi ovviamente parto a braccio quindi è straripo quindi come il mare ricomponiamoci e volevo chiederti quale quale sono stati i tuoi autori di riferimento quali sono i tuoi scrittori preferiti da cui hai attinto quindi perché perché per prendere ispirazione allora diciamo che le mie scrittrici preferite anzi scrittori preferiti perché siamo asti che femmine le mie scrittrici preferite sono la austen e la bronte loro proprio io le amo tantissimo e oscar wild io amo wild il problema è che io non mi metto neanche anzi anche doyle entra nella mia categoria è così due macchiette due femminucce così siamo pari io non mi metto neanche a dire magari ho provato a loro per me sono intoccabili sono così cioè manco manco a provare a sfiorare carli quindi loro ecco loro mi hanno fatto venire la passione per la lettura e poi per la scrittura questo posso ringraziare a loro il resto io non sono neanche adesso per adesso io non mi reputo neanche lontanamente degna di dir ho preso spunto da sono molto sincera perché loro sono non ci saranno altro per me non ci saranno altri come loro almeno per il mio amore che ho poi può darsi che le persone non siano d'accordo con me però per me sono li ringrazio però ecco perché mi hanno dato tanto amore coi loro testi e quindi mi hanno portato a questo no certo vabbè tra l'altro bisogna dire che comunque i libri tengono compagnia no quindi sostanzialmente ci parlano ci e ci ascoltano pure sotto certi aspetti perché poi rientra in tutto ciò anche la psicologia tu mi dicevi quindi di Oscar Wilde Oscar Wilde il ritratto di Dorian Gray che è un capolavoro assoluto della letteratura internazionale e c'è proprio quindi c'è tanta psicologia prima ancora che nascesse la psicologia che poi tra l'altro nel 1900 nell'anno in cui esce l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud e questo la dice lunga e quindi i libri sono anche anticipatori di certe tendenze di certi sommovimenti di certi modi di pensare di certe scuole di pensiero e quindi questo ci fa capire tra l'altro Jane Austen che tu hai nominato prima un altro faro importantissimo è un'autrice che spesso erroneamente viene definita un'autrice femminile nel senso che magari può essere indirizzata solo a un pubblico femminile quando in realtà tranquillamente lo si può leggere si possono ritrovare anche cose che magari possono piacere quindi anche al genere maschile i stessi personaggi maschili che a mio avviso sono tratteggiati molto molto bene forse in alcuni casi anche meglio dei personaggi femminili Jane Austen è una maga del è una maga del dettaglio quindi signor Darsi penso che sia una figura immortale sì esatto e devo dire la verità forse come animo io mi sento molto più vicina a Jane infatti anche quando ho letto la sua biografia ho detto non lo so secondo me se potessi scegliere un autore da incontrare secondo me io e lei andremo a braccetto cioè perché mi ci sono proprio sentita nell'animo con lei e anche quella cosa che molto spesso sia lei che tantissimi altri autori però sentivano proprio vivi i personaggi è la stessa cosa non so se hai mai visto l'uomo che inventò il Natale tratto proprio dal canto di Natale come il canto di Natale ecco cioè la stessa cosa che fa vedere in quel film accade a me io a volte i miei personaggi me li vedo camminare per la stanza cioè proprio perché quando inizi ad entrare così tanto nella tua storia così tanto in empatia con quello che stai scrivendo a un certo punto sono loro che si raccontano non sei più tu che stai scrivendo è una cosa che può sembrare folle ed eccentrica ma tutti un po gli artisti siamo eccentrici e però è una cosa bellissima io a volte vorrei che tutti capissero questa cosa e la provassero perché è una sensazione bellissima ci sono momenti in cui quando io rilego quello che ho scritto penso ma davvero l'ho scritto io ma che cosa è successo perché mi ci butto proprio così tanto che mi perdo e quindi mi sento proprio vicinissima a lei e ovviamente anche ad altri autori per questa cosa qui eh sì e beh direi di sì che sostanzialmente deve essere così romanzi puri romanzi che parlano agli altri sono quelli in cui le figure che noi scrive che noi inventiamo e che presentiamo parlano a noi ci ci frullano nella testa e poi dopo escono fuori quindi noi li buttiamo su carta o sul computer che ormai si scrive quasi più al computer che non su carta anche se io sono uno dei pochi non so se sono in via d'estinzione quelli come me sono dei pochi che ancora scrive su carta e poi dopo travasa sul computer quindi poi dimmi tu se tu no invece no guarda io le bocce le scrivo sempre con la mia macchina da scrivere allora quindi la macchina da scrivere è una cosa che è una cosa quindi che mi rilassa mi rilassa anche no è una cosa che mi fa tanto italo calvino cesare pavese non mi fanno in mente questi scrittori del novecento che di fatto scrivevano e battevano quindi a macchina spesso magari stracciavano la pagina perché la basta sbagliare almeno all'epoca bastava sbagliare una sillaba e dovevi buttare tutto e ricominciare da capo oggi forse non è così fortunatamente grazie a dire non è così perfetto e sabrina prima stavamo parlando di fantasy invece di fantasy quali sono i tuoi autori preferiti quindi quali sono le gli scrittori che più ti hanno segnato come fantasy ma guarda ti devo dire probabilmente non ce l'ho uno preferito è assurdo perché io scrivo fantasy però non ne ho uno preferito mi piacciono vari autori mi piace la claire perché tipo la serie pure di scedovante io l'amo tantissimo la rolling anche comunque l'apprezzo come penna ovviamente tantissimo la saga di harry potter è meravigliosa però se proprio devo dire ecco devo fare una lista come ho fatto per gli storici non ci sono ecco questa è una cosa proprio ancora strana cioè ma è da dire io lo dico sempre io sono un personaggio veramente sono un personaggio perché molte cose magari si contraddicono anche a quello che faccio però sono fatta così ah beh certo ovviamente ognuno attinge da quello che vuole da quello che gli piace da quello da cui siamo attratti spesso e spesso e volentieri quindi le influenze quindi quello che scriva vengono anche magari da una passeggiata spesso per esempio a me mi è capitato tempo fa di leggere l'autobiografia la topiografia di Woody Allen noto regista cinematografico americano che diceva che a lui veniva una specie di sblocco di energia questo sblocco di energia lo collegava al momento creativo e gli veniva nei momenti più strani della sua giornata o quando stava facendo la doccia o quando stava al bar a bere il caffè o quando passeggiava al parco caso strano gli succedeva in momenti in cui non poteva scrivere in momento in cui non aveva la penna in mano per poter scrivere quindi spesso se le perdeva per strada queste idee e quindi aveva preso l'abitudine di camminare con un blocchetto in mano con una penna e all'improvviso si metteva e scriveva quindi in qualsiasi posto si trovasse scriveva e scriveva e là c'è proprio quello racchiude sostanzialmente quindi la potenza creativa perfetto Sabina cosa ti sentiresti di consigliare a un giovane scrittore che si vuole cimentare nel nel miracolo io chiamo il miracolo della scrittura della lettura allora principalmente per la lettura sempre avvicinarsi comunque a qualcosa che magari anche già cinematograficamente può piacere perché purtroppo ecco c'è questa cosa che adesso si si legge molto meno si calcola di più la la cosa visiva no quindi magari chi vuole provare a vedere non lo so magari adesso può venirmi la passione per la scrittura come posso fare per capire se mi piace leggere magari anche vedendo qualcosa che abbiamo visto in tv perché per la maggioranza delle cose cinematografiche c'è quasi sempre un libro quindi magari ecco qualcosa che è piaciuto andarlo a leggere mentre per quanto riguarda la scrittura il mondo della scrittura io lo dico sempre è un mondo molto 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 duro perché ci stanno tanti pro ma molti molti più contro perché per la maggiore c'è molto spesso c'è tanta invidia c'è tanta critica non si va a pensare principalmente che dall'altro lato c'è qualcuno che ti sta dando una parte di sé e quindi i leoni da tastiera sono tanto pronti a criticarti quindi la cosa principale io ad esempio ho iniziato quando avevo 12 13 anni quindi sono quasi 20 anni fa mi sto sentendo vecchia comunque quasi 20 anni fa io ho iniziato sui primissimi siti di fanfiction a scrivere qualcosa di mio devo dire la verità quei siti mi hanno dato sì qualche critica però mi hanno dato la la forza il coraggio di di sentirmi comunque pronta per buttarmi poi 14 anni dopo io l'ho fatto quindi non è che l'ho fatto subito però mi hanno fatto sentire pronta per per pensare magari che qualcosa di mio potesse valere di conseguenza magari se non si è subito sicuri di buttarsi con un editore o magari buttarsi nel mondo di amazon perché amazon anche una bellissima opportunità comunque se non si è pronti magari di provare a scrivere qualcosina sui siti di fanfiction voglio citare tipo what pad perché al momento è quello lì che più ti dà opportunità ti dà comunque una sicurezza sul tuo testo ci sono dei concorsi letterari a cui poter partecipare ambire quindi comunque magari si può provare su quella piattaforma giusto per iniziare a capire se al pubblico puoi piacere o magari per darti uno sprint in più per farti sentire meglio quando ti senti pronto magari o puoi provare con amazon però lì devi affidarti ad esperti che ti aiutino perché non puoi fare come il sito di fanfiction che amazon non è un sito di fanfiction oppure appunto contatti qualche case editrice l'unica cosa da fare attenzione alle case editrici che si spacciano per case editrici perché ci sono tante case editrici che prendono i sogni delle persone che ci credono e poi se ne approfittano sulla tua pelle non ci guadagni niente ci guadagnano tutto loro magari si prendono il libro ti fanno firmare un contratto e sei fegato per cinque anni dieci anni quindi fare attenzione a questa cosa qui magari se si ad occhio a una case editrice perché solitamente le case editrici principali che calcolano gli emergenti sono quasi sempre le piccole le medie raro quelle grandi è impossibile cioè quelle grandi se non c'è proprio una grande spinta un grandissimo curriculum non ti calcoleranno mai a meno che non sei uno youtuber da 50.000 follower io sono molto sincera e molto schietta lo dico sempre e quindi magari non lo so notate questa case editrice andate a leggervi le recensioni su internet andate a vedere i pareri magari ormai diciamo che in cinque anni che pubblico mi sono fatta una pancia così di case editrici sì e case editrici no fortunatamente ho trovato la milena che è una case editrice sì al cento per cento quindi se avete anche qualche dubbio mi potete contattare guarda senti ho trovato questa case editrice tu che ne dici la conosci io sono sempre sincera quindi questa è l'unica cosa che posso consigliare ed è giusto quindi lo penso anch'io è che da autore sicuramente quando si è alle prime armi c'è sempre la difficoltà a scrivere a pubblicare soprattutto a far promuovere il proprio prodotto perché sostanzialmente viviamo in una giungla che di fatto non dà sempre spazio a tutti quindi un po lo spazio uno se lo deve se lo deve scavare da solo quindi con le zanne e con le unghie quindi è una continua battaglia e quindi sostanzialmente sì diciamo che il discorso è perfettamente inquadrato ed è perfettamente lineare ed è condivisibile non al 100 al 110 per cento quindi per per concludere questa per concludere questa simpaticissima intervista io vi vi invito veramente a prendere non soltanto il libro di sabrina che adesso ci rimostra ce lo fa vedere di nuovo quindi non solo quindi di acquistare consiglio non solo di acquistare questo bel libro che già la copertina quindi come dicevo quindi è simpatico è fatta bene molto bello colorato quindi pubblicato dalla casa editrice officina milena di angela che saluto molto affettuosamente e non solo quindi come dicevo di prendere questo volume di cui troverete in descrizione all'interno del video tutti i link necessari per poterlo acquistare ma di recuperare anche gli altri volumi di sabrina che non ti nascondo mi farebbe piacere quindi approfondire e magari ripresentare non presentare anzi per meglio dire quindi se gli farà piacere quindi la rubrica libri interviste come vedi è ampia e quindi piena di sfaccettature quindi dal fantasy assolutamente sarei molto lusingata anzi ti ringrazio perché sono stato benissimo ha fatto piacere anche a me ed è stato un viaggio quindi nella fantasia quindi come monito finale io dico sempre se non volete che il triangolo delle bermude nel suo vortice vi succhi oppure se non volete che eri con la sua bacchetta vi faccia qualche incantesimo muccio non proprio simpatico acquistate il libro di sabrina e iscrivetevi al mio canale che male non fa un abbraccio forte sabrina assolutamente fate tutto questo grazie mille ti ringrazio ancora tantissimo sono stata benissimo e grazie a tutti buona giornata ciao sabrina ciao grazie